Oh! Ma che si fai con tutti i piedi? Lei? Ha fatto fare una cosa lì. Non l'abbiamo capito. Che sto qui? No, però ne avevo mai detto non il film e io, sono stato orgoglioso e arrodato. Grazie. Grazie. Scusa. Sono d'accordo per scambiare te con Giovanni. Diciamo a te. Cosa? È passiva. Cosa? Aspetta. Grazie. Oh, ho portato via la maglietta. Lei, come hai fatto? Grazie. Grazie.